Il posto di polizia all'interno della stazione ferroviaria di Sulmona va potenziato, non chiuso, per carenza di personale. È necessario un immediato ripensamento del Dipartimento della Polizia di Stato, che sta effettuando una riorganizzazione dei presidi, sia stradali che ferroviari, e che ha indetto per questo una riunione il 21 dicembre. Lo afferma in una nota la senatrice del PD Stefania Pezzopane, facendo notare che la stazione di Sulmona è il secondo scalo ferroviario dell'Abruzzo, con 65 convolli in transito al giorno. Già un anno fa, Prosegue Pezzopane, si paventava questo esito, che per fortuna abbiamo sventato, con interventi presso il ministro Alfano. Importante è stato il ruolo del sindacato di polizia e in particolare del COISP. Ora, in vista di questo nuovo incontro, invitiamo il Dipartimento di Polizia di Stato a riflettere sulla necessità di non sguarnire l'importante snodo ferroviario di Sulmona per la sicurezza dei cittadini e del territorio abruzzese. Lancio l'SOS al ministro Alfano, conclude Pezzopane, a cui chiedo, nonostante la grave crisi politica di governo, di ascoltare la voce del territorio. Per la difesa del presidio la politica torna a mobilitarsi. Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, ha avvertito il ministero che non permetterà la chiusura della polfer. A chiedere la riavvertura del tavolo istituzionale, coinvolgimento di tutti i parlamentari abruzzesi, ci ha pensato la consigliera Roberta Salvati ad alzare la voce e anche il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis. In ballo non ci sono solo posti di lavoro, ma anche una prospettiva di legalità, sicurezza e sviluppo dello snodo ferroviario, rimarca De Crescentis, spiegando che vanno cercate delle leve per evitare di perdere un altro servizio nella nostra zona.